Benx torna da Aradori, taccaroll dal palleggio, poi contatto, fischio e canestro. Aradori prova a spingere in transizione, Benx gli lascia libero il quarto, Aradori non ha bisogno di tanto spazio. E ci sono altri due in teoria comodi per Aradori, che oggi sbaglia pochissimo. Epp consegnato per Aradori, Barceschi accetta il cambio perché deve uscire aggressivo, arresto, bomba! E poi 20!